Questura di Lucca e Comando Provinciale della Guardia di Finanza uniscano le forze per una cooperazione investigativa in materia di misure di prevenzione patrimoniale. La storica firma si è tenuta stamani 28 febbraio nella sede della Questura, tra il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Marco Querqui e il dottor Dario Sallustio, questore di Lucca. Si rafforza sicuramente un'intesa, un accordo a livello investigativo per il contrasto a varie forme di criminalità e soprattutto per agevolare l'esercizio delle funzioni dell'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza del questore nella predisposizione delle proposte di misure di prevenzione patrimoniale. Con questo accordo il questore potrà procedere anche con l'intervento della Guardia di Finanza a indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziare, sul patrimonio e sull'attività economica con lo scopo di individuare le fonti di reddito di soggetti indiziate di far parte di associazioni a delinquere di stampo mafioso o dedita al traffico di sostanze stupefacenti o alla contraffazione di marchi e brevetti. Oggi costituiamo un gruppo di lavoro che ci consentirà di mettere a disposizione gli elementi investigative a nostra comune disposizione e faccio riferimento anche nel caso di specie alle informazioni antiriciclaggio che una volta analizzate dagli specialisti della Guardia di Finanza potranno costituire un bagaglio di informazioni, di notizie comuni per poter valutare se vi sono soggetti che sono meritevoli di un'attenzione sotto il punto di vista dell'applicazione di sequestro di prevenzione patrimoniale finalizzata dalla confisca. Questo per togliere nella disponibilità a soggetti che sono abitualmente detti a delinquere patrimoni accumulati in maniera illecita sul nostro territorio e riportarli nella disponibilità dello Stato. Grazie. 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 Grazie.